Si conclude il mese mariano, il mese dedicato alla Madonna. Durante queste settimane nelle varie parrocchie vengono effettuati dei veri e propri pellegrinaggi. I devoti infatti ospitano nelle proprie case o negli spazi condivisi a volte dei condomini le statue della Madonna per un momento di preghiera e devozione. Il mese di maggio è un mese caro alla Madonna perché ricorrono diverse celebrazioni, diverse memorie legate a Maria. Ecco allora perché si solennizza il mese di maggio come il mese di ottobre, soprattutto legato anche ad un aspetto, quello che è la Madonna di Fatima. Sono le apparizioni che avvennero ai tre pastorelli a Fatima da maggio ad ottobre. Il canto proprio dedicato a Maria è da maggio ad ottobre sei volte Maria. Un altro aspetto è quello dedicato al Rosario. Nel mese di maggio e nel mese di ottobre ricordano le due feste dedicate alla Madonna del Rosario. Allora sono due mesi tipici dell'anno dove si solennizza in maniera particolare la figura di Maria Santissima. Il 31 maggio molte parrocchie hanno celebrato la fine di questo mese con delle processioni a San Pietro. Il corteo con il quadro dell'artista romana Marcella Fratelli, raffigurante la Madonna, ha effettuato un piccolo tragitto coinvolgendo anche le sue mercedarie e alcuni fedeli. Alla parrocchia San Pietro di Caltanissetta c'è stata una bella tradizione. Negli anni passati, prima della pandemia, per tutto il mese di maggio giravano otto madonnine per le otto zone del territorio parrocchiale, di famiglia in famiglia. Tutte queste famiglie poi si riversavano il 31 maggio in processione per un momento di preghiera mariano. Nel tempo Covid ciò non è stato possibile, tuttavia abbiamo dedicato quest'anno, il 31 maggio, a tre momenti con Maria. Il primo, tenuto alle 17.30 dalla professoressa Aurelia Speziale, a cura dell'Università Senza Età, è stato quello di andare a vedere la figura di Maria nell'iconografia cristiana nissena, qui a Caltanissetta. Il secondo momento è quello della fiaccolata mariana. Il terzo momento è stato dedicato alla preghiera al termine della processione. Grazie a delle meditazioni e a dei testi scritti dal compiando Monsignor Giovanni Speciale. Il tema di quest'anno è l'iperdiulia in Maria. L'iperdiulia è l'alta venerazione di Maria nei confronti rispetto a tutti gli altri santi. Allora lasciamoci guidare da Maria, invochiamo la sua potente intercessione per la nostra salute e per la pace nel mondo.